ciao a tutti e benvenuti a questo gameplay era rimasto che ho affrontato l'ultima missione delle missioni da 4 stelle e mi è fermato qui quindi non mi resta che ricominciare le missioni della sala della raccolta allora vedete l'equipaggiamento l'arma cambiata perché ho andato a raccogliere un po di oggetti e ho cambiato un po il set ecco allora sala della raccolta e e adesso al cazzo come se non avessi capito allora nel frattempo però devo togliere gli oggetti che non mi servono apposta così ottimo ok andiamo punky andiamo baby forza avanti mash dopo che potremmo rifaccio un tubo e ora e finicotte io hozzam c'è incazzato ragazzi fa male bravi ragazzi bene sposto qua e raccogliamo questa erba ma peperoncina grazie ragazze peperoncina maletta oddio qua il miele che ne ho un bisogno estremo è sempre tra gli oggetti più consumati il miele ovviamente per creare pozioni senza ammire non si fa niente bene questo non mi ricordo cosa che mi dà uscire vacca no se volete per una cv ragazze io penso a questa bravi ragazzi poi un altro da raccogliere qua giù si che è sta roba bacca bomba ma va bene già sparito va bene altre slag tot eccola allora andiamo dritti non è morita si vieni qua bravi ragazzi ok allora che c'è qua e vai miele bisogno extroito e va raccogliete ragazzi raccogliete bene poi come che correte ragazzi che fa da questo suono strano allora io andando in missione ho scoperto che qui si poteva salire in maniera molto figa devo dire che catturiamo un po' di insectar puzza puzza che puzza l'ampi tuoni un bel temporale ok poi altro qui no vabbè l'altro indietro vado di qua forza ragazzi ok vamos 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 sai ballar un po' di conga ancora da far fuori e mori Tu morto? Tu cazzo Eh bravissimi ragazzi miei E questo pensavo anche di Fregarmi Come un piccolo stolto Perchè parte così? Fa male eh? Arrivo Come osi Bravo baby Le usi assai array In queste bombe Qua c'è il veleno Quindi mi allontano Altri in sector Oh mio Dio Chi è? Lo cazzo Questa cosa Questa cosa significa che avvelena Via 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 Mamma mia aiuto Via 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 Eh Dov'è che scappo da qua? No No mi capi Porca miseria ragazzi Dov'è che sto rompiscatole Ma che vada in casino anche lui Non c'è Non c'è la nostra del cavolo Tutto qua con il sector Vabbè Chi è che fa sti grassi? Ah Il concio Ma andrei a franco uno anche voi Bravi Ragazzi I miei Qui l'altro Puglancino Non bacca Se no Ho scassato la minchia E poi provate Boh Mi hai testo di morire Ma Non voglio perdere tempo con voi Quindi da qua io passo di la Ho iniziato a prendere Boh Qui nemmeno scommetto Infatti Beh Poi Oh e là ragazzi miei Ah Uova sono Aiuto A me sta zona tutta così Mi sa che c'è ben poco da raccogliere Eh mio mio Vabbè 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 Salve Bene La pietra da piccolare La pietra da piccolare Ok Che cavolo c'è qua dentro? Ah si pesca Vabbè Non mi interessa pescare Ciao Ciao A bei singoli Kelby Cosa No Cogliere Qui c'è la tana dei Amici Miamo Alla faccia per otto Wow Ok Fiegato Adesso Mi piace assai Array Beh Adesso di qua Altri conga maledetti Altri conga maledetti Vabbè Lo sto proprio a tempo Poi Altre erbe Cosa che dubito fortemente Cosa che dubito fortemente Ecco un altro Stiamo già arrivando Ma l'ho già finita Ma vabbè Cagliate Altre piante Sì Ma l'affanculo anche voi Bene Che stupidi che siete Siete proprio stupidi E io qui ho finito Sono già pieno Allora Io posso togliere Oddio Eccolo qua Bene 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 Dove cavolo La cassa rossa Do cazzo stai? Guarda Facelo cazzo Beh E anche questa E' fatta E' fatta E' fatta Allora Un po' di cotto E' un po' di ossa Però ragazzi Avete raccolto pare Che roba Bravissimi Piante linfa Piante linfa Ferro Arbantieto Sememone Ecco miele Piante linfa E scaverme E tu bevi Che sta alla terra Fervina Insetto Pozzetta Scarabella brillante Miele Arbantieto Miele E piante linfa Bravissimi Ottimo Bene 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 Ok allora ripongo quello che ho raccolto Poi Poi Si va bene Adesso Un'altra Su Che è nel canale che ha certo Allora Mi servono Un po' di Queste qua Scusate Ho tentato di interrompere per non essere interrotto Tutto Allora Questa E Questo Queste Beh Andiamo Ragazzi Questa Allora No Grazie Grazie Ragazzi Bravo Baby Un po' di Popo Da copare Bravi Potrebbero sempre essere utili Potrebbero sempre essere utili Se C'è questa Giusto giusto qua C'è questa Giusto giusto qua Grazie Rai Cracra De nuovo Tutto Cracra Si continua col cracra De nuovo Se finisce più Se finisce più col cracra Si prosegue E Gli era anche ora Allora Va bene Andiamo di guare Figata sto l'avo eacciato Ovviamente figo 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 Vediamo cosa c'è qua Vediamo cosa c'è qua Vediamo cosa c'è qua Vh spilla per due Vh pittura Vh pittura Ottimo Ah però Non l'ho neanche visto Stranamente Allora Un po' qua Qua è la Una roccia da piccolare Il meo meo Dopodiché direi di ammazzare un po' di zamite, eccoli qua, zamite, ah ah ah, l'ho Sì, è ancora vivo eh? Che resistenza! Che cazzo è? Un piccolo zamite bastardo Cioè guardate quante sono qui Scusate ragazzi, ho colpito per sbaglio il supporto dove tengo Fermo il telefono Ma andate a fare ancora Ma poi basta la pesete Vai bebe Dunque io lo stai Via porca puttana Via 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 Cazzo qua sarebbe avuta però Forse Ma merda Questi stronzi Purtroppo Meglio che me le do a gambe Cioè già qua rompe le palle Mori Bravo baby Fattuto Grazie Scusate parchi Oh Una roccia piccola C'hai trovato eh? Una volta è data male Banna cara di merda Ok Queste sono tutte le Ma che figata posso rompegarmi? Ma che figata posso rompegarmi? Com'è che si fa ragazzi non mi ricordo mai? Ok Ok Come ho detto Non mi ricordo più come si salta Vabbè pazienza Ancora Un po' di ossa Ancora Che domaroni Ma che figata E' Perché adesso per spaccare il cazzo? Sempre da rompere i coglioni Non si facesse i cazzi suoi E invece da rompere il mare Forza ragazzi Forza ragazzi Raccogliete un po' Anche voi Un po' Su Un po' di pezzi che volano Bene Dopodiché Cosa c'è da raccogliere ancora Questa roba qua Che non so neanche che cosa sia Vediamo un po' Gussi di bacca ancora Che do coglioni Un bacca che è sempre comoda Ok Poi miele Che me la serve sempre Costantemente Grazie l'altra cosa ragazzi Assolutamente sì la piccola maestro da qua miracolo sfermatura molto rara bravo baby è stata una bella frittata una gaffranculo. vediamo se c'è qualcosa qua da raccogliere non c'è una beata mazza frittesca da onde finito. bene andiamo di qua ragazzi prima che arrivi da M3 osse a rompere le palle scusate ma che figata sembra quasi un punto dove si può arrivare purtroppo non è così allora ciao amici umano qui non c'è nessun compagno nuovo che si possa trovare no pazienza raccogliete ragazzi raccogliete allora poi altro in sector allora colgo un'altra lì non c'è una beata minchia e vabbè direi che qui sono a posto in attiva per trattino stronzo tanto così non c'è una beata minchia e non c'è una beata minchia e vabbè ragazzi salve ha poco da seguirmi perché io sono andata la base e l'ho fottuta dalla grande ma scarto anche scarto questo e scarto anche questa roba qua che è proprio questa sia ma l'ho spagnatura dalla malta vabbè non importa intanto la missione è fatta scusate l'intruso nel touchscreen voleva partecipare anche lui alla partita allora carne cruda scaverne bravissimi ragazzi così mi piacete molto che cos'è sta roba freddo più certe va bene e anche voi avete preso un po di punti ottimo allora intanto svuoto l'identario beh quella aspetta svuotarla perché non so la prossima nessuna ecco la che sarebbe se si parla lei allora la prossima sarà nella fossa abissale vabbè però la roba semplice semplice salve gente ha proposto signor mercante allora ha copertato tutta perfetto andiamo un po' andiamo un po' pochissimi di funghi blu e ci vogliono funghi blu mettiamo un po' di salto del vino ok la ringrazio e infine guardate questi mici ci hanno sfidito la missione e vai ottimo bulldron ok vediamo un po' voi come siete messi metto per casa tu sei al massimo tu e idem adesso ti è tutto caro tu ti è lavorato un po' di coccoline e vai ragazzi e il piccolo appoggi vorrebbe saltare sul letto con me e fare le ninne insieme ma questo almeno dimostra veramente non è possibile bene ragazzi questo è un playfisher qui e ci vediamo al prossimo ciao a tutti